Chiara Ferragni e la sua famiglia hanno deciso di fare un passo indietro dai social network dopo aver ricevuto una pesante multa di un milione di euro legata alla vicenda Balocco. Attualmente, la famiglia si trova sotto il fuoco mediatico con accuse per ogni minimo gesto che compiono. Per evitare ulteriori polemiche e controversie, hanno scelto di non pubblicare video della loro vita familiare e dei bambini. La decisione è stata presa per proteggere la loro immagine e per evitare ulteriori critiche da parte dell'opinione pubblica. Oltre alla multa e alle accuse in corso, si è diffusa la notizia che la tuta indossata da Chiara Ferragni durante il suo discorso di scuse è stata oggetto di grande richiesta nei negozi online, aggiungendo un ulteriore elemento di speculazione e controversia. Attualmente, Chiara non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alla situazione. La famiglia sembra voler affrontare questo periodo delicato, con riservatezza, cercando di limitare l'esposizione mediatica e di concentrarsi sulla gestione delle critiche già in corso. Grazie. 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 Grazie.